I paesi che investono in occupazione di qualità avanzano più rapidamente sul piano economico. Lo stesso vale per chi investe in formazione di qualità. Nel mondo oltre 70 milioni di giovani sono disoccupati, senza considerare i net, ovvero quei giovani che non lavorano, non studiano e non frequentano corsi di formazione. Dove i sistemi di apprendistato sono debole, generalmente i livelli di disoccupazione tra i giovani sono tra i più elevati. Are you ready to face up the new work economy? Face for Job è l'evento che si è realizzato in diretta streaming nel pomeriggio di oggi all'interno dei nostri studi televisivi. L'obiettivo è fare incontrare domanda e offerta e garantire un futuro ai giovani che cercano lavoro. Dicendo Face for Job diciamo due cose. Una, metteci la faccia per il lavoro, quindi una piattaforma che ti permette di incontrare le aziende e strutturare delle interviste direttamente online. Due, da un punto di vista operativo, affronta le quattro mosse. Face, quindi uno strumento semplice, al passo con i tempi, che permette di entrare all'interno delle aziende direttamente da casa. E Job, naturalmente il lavoro di cui c'è tanto bisogno, questo è stato un aiuto fondamentale, ha già dei numeri che può vantare? Sì, noi in realtà oggi avviene il lancio internazionale, quindi della piattaforma multilingua in tutto il mondo, ma in realtà noi siamo live dal 10 febbraio scorso sull'Italia e in questi mesi abbiamo chiuso migliaia di annunci e centinaia di aziende che hanno usufruito del sistema. Oggi la presentazione è con un evento che è andato in diretta streaming, quindi visibile in tutto il mondo, con collegamenti da tutto il mondo. Che cosa si è raccolto, oltre all'energia e alla volontà di cambiare questo sistema che con la crisi naturalmente ha sofferto, pare che continua di fatto a soffrire? Si è raccolto un riscontro estremamente importante, un riscontro su cui speravo e che finalmente non ha avuto le prove, cioè che c'è bisogno di un canale diretto, restituire questo diritto ad aziende e candidati di incontrarsi direttamente, senza intermediari, in maniera meritocratica e in un'area riservata. Quello che oggi abbiamo potuto appurare con questo agio internazionale è che questa sfida che io ho lanciato è accolta a pieni voti. Posso sapere qual è stata l'ispirazione che ha fatto nascere tutto questo? Semplicemente l'esperienza. Io negli ultimi cinque anni ho curato uno start-up americano in Italia e mi sono occupato tanto di selezione, chiaramente soffrendo dei portali presenti nonché degli intermediari e la lampadina mi si è accesa proprio nel momento del bisogno, proprio perché sentivo la necessità di uno strumento che evitasse tutto questo movimento logistico di candidati e quindi perdite di tempo e costi non indifferenti. E allora il consiglio uno per tutti a un candidato che vuole disegnare il suo futuro come lo sogna? Che cosa fate nei vostri hobby? Questo è il talento, investite su questo perché il lavoro sicuramente lo trovate.